Vincente di D'Ambrosio, torna avanti la Carrarese, altro colpo di testa vincente D'Ario D'Ambrosio a fare 2-1 puntuale Decisivo un altro colpo di testa D'Ario D'Ambrosio, rimasto a terra se non sbado errato Carlo Pelagatti è stato completamente ignorato dai propri compagni anche nell'esultanza di fatto Carlo Pelagatti è allontanato D'Ambrosio, di fatto era l'unico uomo rimasto in mezzo all'aria per la Carrarese cross di Grassi